Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del mattino, buon inizio settimana a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, ben ritrovati sul canale 17, siamo in diretta alle 7 del mattino per sfogliare i giornali che abbiamo selezionato per voi in questa rassegna di oggi, oggi lunedì 16 novembre 2020 e come sempre andiamo a vedere il calendario con il santo di oggi, oggi la chiesa cattolica ricorda Santa Gertrude la Grande, il sole sorgerà alle 7.08 e tramonterà alle 16.43. E allora andiamo subito a vedere il tempo, questa è la pagina principale di Trebimeteo, perturbazione tra oggi e domani, tornano piogge temporali e la neve come vedete nel simbolino in alto intorno ai 1300-1600 metri, Nello specifico invece la regione Marche, la protezione civile per oggi prevede un cielo sereno, poco nuvoloso, anzi un cielo nuvoloso o molto nuvoloso con attenuazione della copertura dal pomeriggio sera, tardo pomeriggio sera. Le precipitazioni, quello che ci interessa, al mattino avremo rovesci inizialmente confinati ai settori settentrionali, quindi la provincia di Piazza Urbino, in diffusione al resto della regione durante le ore centrali. Nel corso del tardo pomeriggio residui fenomeni sui settori meridionali, localmente, attenzione, i fenomeni potranno risultare intensi. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, torna tutto regolare, tutto sereno o poco nuvoloso con la parte centrale di questa settimana che sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Allora, cominciamo a dare un'occhiata ai quotidiani, prima però vi dico subito che oggi sarà una giornata, una mattinata, nella quale apriremo una finestra informativa subito dopo le 8.30, in diretta di nuovo con l'informazione, quindi per schematizzare un po' il tutto, fino alle 7.30 avremo la rassegna stampa in diretta, alle 7.30 poi la messa dalla Santa Casa di Loreto, alle 8 la replica di questa rassegna stampa, fino alle 8.30, poi dalle 8.30 torneremo in diretta. Lo faremo per fare che cosa? Per fare un po' il punto della situazione, il punto della situazione sulla pandemia nella nostra regione. Avremo degli ospiti, dei collegamenti, avremo in collegamento anche il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, proprio all'inizio del nostro percorso, all'inizio del nostro programma. Adesso però andiamo a vedere i giornali. I giornali e la pagina di Pesaro del resto del Carlino. La fotonotizia è per il trionfo a Valencia di Morbidelli, capolavoro Morbidelli, questo è il titolo, Rossi è invece dodicesimo, mentre sul Covid, zona arancione, l'ombra di Ricci, Elisabetta Foschi accusa il sindaco, c'è anche la sua mano dietro la decisione, come ai tempi di Ceriscioli. E ancora, pronto soccorso si cambia, al via le dimissioni rapide, e poi il bollettino di oggi, delle ultime 24 ore, Marche Nord, ora si liberano i posti letto. E poi ancora, morto il prof Ettore Franca, strappato dal coronavirus, e poi si è spento Edo Ziccarelli, campione di vela e di amicizie. E poi il sindaco si inventa Babbo Natale, consegnate strenne da 100 euro, sono i buoni per le famiglie. E nuove regole in centro, sempre a Pesaro, il ristoratore impenitente va contro mano, ed è stato multato per l'ennesima volta. Sotto lo sport, garanzia Bosco, il calcio di Serie C, tutto il possibile per salvare la Vis, le rassicurazioni del patroni in società, ma la squadra è sempre più in crisi. E poi il basket, ipotesi WL, si torna in campo il 6 dicembre. Difficile che domenica si giochi contro Reggio, e allora possibile ripartenza da Treviso. Quindi potrebbe essere il 6 di dicembre, appunto, il ritorno sul parquet. Allora, il Corriere Adriatico, questa è l'apertura invece dell'edizione pesarese. Intanto la fotonotizia dei ristoratori fanesi che sfilano in corteo, fanno una protesta, che loro dicono, nata un po' così a sorpresa. Mercato, presidi rafforzati, dopo la stradomenica, vigilanza più stretta pure San Decenzio, sanzioni e controlli in centro. Terapia intensiva, invece, l'Umbria chiede aiuto alle Marche, ancora sopra i 700 i positivi nella nostra regione. Poi c'è un'intervista, che andremo a vedere tra poco, all'interno del giornale. È un'intervista fatta ad uno dei medici, dei professori, che fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico, in questo caso il professor Luca Richeldi, componente del CTS, pneumologo di fama internazionale, che spiega come hanno fatto le Marche a passare da zona gialla a zona arancione. Poi addio al professor Ettore Franca, patron dell'Olea. E poi Ricci, volontari, consegnoni buoni, destinate alle famiglie. E a Tavuglia, di gestore, parla l'ex sindaco, costruirlo a Talacchio. Una scelta scellerata. Poi sotto il Lisippo, in campo i fanesi nel mondo per una mostra, a riportare la strato in Italia. E il calcio di Serie C, la vis soffre, ma sono certo che risalirà, dice il presidente Bosco. Allora, adesso andiamo nelle pagine interne e vediamo che cosa e come titolano i giornali oggi sulla questione Covid nella nostra provincia, nella provincia di Pesero e Urbino. Intanto ci focalizziamo con Benedetta Iacomucci sul carlino di questa mattina, sul pronto soccorso di Pesero. Quindi siamo all'interno dell'azienda Marche Nord. Questa è la pagina del carlino, pagina 5 del carlino di oggi. Il titolo, pronto soccorso al via alle dimissioni rapide, di questo si parla, cioè di ambulatori di monitoraggio, di dimissioni rapide al pronto soccorso. Una nuova gestione, una nuova gestione del paziente Covid che inizia praticamente da oggi. C'è già una tenda davanti al San Salvatore, dove saranno visitati i pazienti dimessi due o tre giorni fa. Questa intervista è con Umberto Gnudi, il primario facente funzione del pronto soccorso del San Salvatore, il quale dice, attenzione, intanto qual è la situazione nel reparto? Lui dice che è impegnativa, ma non drammatica. Teniamo presente che il pronto soccorso di Pesero è l'unico ospedale della provincia di Pesero-Urbino che accoglie i pazienti Covid positivi del territorio. Siamo sotto pressione, ma la situazione non è ai livelli di marzo. Da oggi inizieremo dunque l'ambulatorio, un nuovo percorso per migliorare la gestione dei pazienti. Poi c'è tutta l'intervista ovviamente nel giornale che vi lascio leggere, ma ci sono due cose che voglio sottolineare questa mattina importanti. Uno, lo spirito. Parla dello spirito che non è più quello di marzo. Non ci sono soltanto i malati che non sono più quelli di marzo, ma anche se il Covid resta lo stesso, la gravità è la stessa. Ma è lo spirito che è cambiato. Sentite che cosa dice Gnudi a proposito del personale. Come medici siamo in organico completo. Il problema è lo spirito. Se a marzo c'è stata una reazione forte, ora siamo più stanchi. E questo allarme continuo richiede applicazioni. Anche un'applicazione, anche mentale, che è faticosissima. Quindi lo spirito. E non è soltanto quello, aggiungiamo noi, quello degli infermieri, dei professionisti, dei dottori, che chiaramente daranno il massimo, anche se lo spirito conta molto, nell'applicarsi anche dal punto di vista mentale. Ma l'abbiamo visto anche tra di noi, che non è più lo spirito di marzo. Una volta a marzo, aprile, si usciva dai balconi a cantare, tutti insieme ce la faremo, andrà tutto bene, oggi mors tua, veta mia. Insomma, come dire, questa è un po' la differenza, che non è da poco. Non è da poco. Poi, ancora un passo di questa intervista, che mi sono appuntato. Ci sono persone, a proposito di che cosa, la domanda è che cosa ne pensa di chi manifesta, di chi minimizza, di chi nega addirittura l'esistenza del virus. Lui risponde, sono convinto sia necessario fare di tutto per consentire a ciascuno di guadagnare il proprio pane. Quindi la mette sul punto di vista economico, chiaramente. Ma so anche che affidarsi al senso civico di ciascuno è stato fallimentare. Cioè, quello che dovevamo fare non l'abbiamo fatto. E poi ci sono persone, attenzione, che hanno deliberatamente mentito, nascondendo i sintomi e continuando ad infettare, che è una cosa terribile. Sotto invece dal bollettino, dati confortanti, in ospedale si liberano addirittura posti letto. Il Carlino comincia in qualche modo, giustamente, e io sono su questa linea d'accordo, a vedere il bicchiere mezzo pieno. Su 707 contagi nelle Marche, Pesaro si ferma a 154, due le vittime in provincia. Ora, c'è un'altra invece, e qui andiamo a vederla davvero, ha meritato il titolo d'apertura del Carlino di questa mattina. Perché? Roberto Fiaccarini scrive questo articolo sul Carlino di Pesaro di oggi, sulle dichiarazioni, sulle esternazioni scritte da Elisabetta Foschi, assessore alla sanità del comune di Urbino, e che, insomma, lasciano un po' così interdetti. Allora, che cosa scrive Elisabetta Foschi? Elisabetta Foschi scrive, mi viene il sospetto che dietro questo passaggio repentino da zona gialla a zona arancione ci sia lo zampino di qualcuno. Elisabetta Foschi è anche coordinatrice provinciale di Forza Italia, oltre ad essere assessora alla sanità di Urbino, che con un suo intervento sulla pagina di Facebook trasforma le dietrologie degli ultimi giorni in un caso politico. Ora, Elisabetta Foschi non fa nomi, la Foschi non fa nemmeno niente, per evitare che qualcuno da lei evocato venga facilmente individuato in Matteo Ricci. È su di lui che fa cadere il sospetto di aver lavorato alle spalle della giunta regionale per spingere il governo a cambiare colore alle marche. E voi vi domanderete perché lo avrebbe fatto, a quale scopo. Ora c'è tutto poi un discorso che vi invito a leggere in questo articolo di Fiaccarini, ma io vado qua e aggiungo. Mi viene il sospetto che in questo passaggio repentino da zona gialla ad arancione non concordato, attenzione, né comunicato con sufficiente preavviso da conta ad Acquaroli, ci sia lo zampino di qualcuno che proprio giovedì pomeriggio in una riunione con la prefettura si diceva preoccupato della differenza di colore tra le marche e le regioni confinanti. Quindi le marche all'epoca, insomma, giovedì erano gialle e nulla faceva presagire in sostanza ad un cambio, anzi, le parole di Acquaroli, proprio anche giovedì, erano di tutt'altro avviso. Insomma, si pensava di continuare a mantenere il colore giallo, quindi con poche restrizioni anche in queste settimane, perché i numeri lo dicevano. E allora c'era qualcuno invece, questo famoso qualcuno, che si diceva giovedì preoccupato della differenza di colore tra le marche e le regioni confinanti. Il timore di Ricci, NDR, notizia di redazione, è stato messo tra parentesi, il timore di non riuscire a contenere gli assembramenti del fine settimana nella propria città e la preoccupazione che se avesse chiuso con propria ordinanza alcune attività del centro, poi i ristori, quindi i soldi a quelle attività non potessero essere riconosciuti e pagati dal governo, tanto che auspicava misure restrittive da enti superiori per il fine settimana. Guarda caso, come dire. Però, attenzione, sospetti pesanti, scrive ancora Fiaccarini sul giornale di questa mattina, ovviamente senza possibilità né di verifica né di conferma. La chiusa qual è? Forse c'è però una sopravvalutazione della capacità di Ricci di incidere sulle scelte del governo, detto più banalmente. Che lui ci provi in tutti i modi, sì, che ci riesca davvero, è tutto da dimostrare. Andiamo sul Corriere Adriatico, invece, e qui vediamo il bicchiere mezzo vuoto della pandemia nella nostra regione. I contagi non si abbassano, l'appello del governatore, rispettate tutte le regole, per 14 giorni sarà in vigore, scrive Acquaroli, l'ordinanza firmata dal Ministro Speranza, a cui vi prego di attenervi scrupolosamente. È un appello che ha fatto ieri, primo giorno in zona arancione, si è rivolto ai marchigiani, questo post ha raccolto oltre 1500 commenti, in una giornata in cui si sono registrati altri 707 casi positivi al Covid. Due pazienti ricoverati in terapia intensiva, intanto, ma i degenti sono comunque stabili. E anche qui vale la pena sottolineare, non per alleggerire, ma anche per, soprattutto per dare il giusto senso alle cose, che certamente sono numeri importanti, abbiamo visto, insomma, 700 positivi, però va detto, e questo non lo dico io, lo dicono i medici, e lo abbiamo visto poco fa, ci sono persone che poi entrano in ospedale, entrano in condizioni diverse rispetto a marzo, ma poi escono anche tanti dimessi dalla terapia intensiva, anche dopo soltanto qualche giorno. Quindi ecco, le cose vanno un po' in maniera diversa. Anche se, ripeto, ribadisco, è importante che ognuno faccia la propria parte, anche se abbiamo visto che se siamo in zona arancione, ammesso che non sia per colpa di quel qualcuno, insomma, il resto è colpa nostra. Insomma, sale il numero delle persone in isolamento in un solo giorno più di 1.213 persone. Intanto il Corriere Adriatico pubblica l'intervista al professor Luca Richeldi, che è il componente del Comitato Tecnico Scientifico, che spiega al Corriere Adriatico le misure adottate per frenare la seconda ondata pandemica del Covid-19. E in questa intervista, dice il professore, la zona arancione non è una punizione per le marche, ma tutt'altro, serve per proteggerla. Va tutelato il sistema sanitario, che deve assicurare cure adeguate a tutti i cittadini. Sull'ipotesi di cura con ozoto, plasma e idrossiclorichina non sono quelli che si usano. Ora c'è qualcuno che vorrebbe sperimentare con queste cose qua, però con l'azoto, eccetera, però non è questo. Anche se poi nelle marche in realtà non è così, perché il plasma iperimmune viene utilizzato e molti pazienti sono stati trattati, più di una ventina di pazienti sono stati trattati, anche con, così dicono, ottimi risultati. Poi ci sono i Covid hotel, i Covid hotel che in qualche modo servono anche, vanno incontro anche proprio alle esigenze di spazi degli ospedali, perché è inutile tenere quelli che hanno un Covid cosiddetto un po' leggero all'interno dell'ospedale quando potrebbero stare da altre parti. A casa magari non possono stare, allora ci sono i Covid hotel. Due sono già operativi, altri otto sono pronti a partire. L'assessore regionale alla protezione civile Stefano Guzzi dice attivi 104 posti letto per le quarantene. C'è questo patto con gli albergatori fino al 31 di dicembre, 55 euro al giorno per ogni Camera occupata. Intanto la Camera di Commercio stretta su 9.700 imprese con le marche che adesso sono in zona arancione. Intanto i nostri cugini vicini umbri hanno purtroppo la sanità al collasso, vicina al collasso. Gli umbri dicono aiutateci con il Covid hospital sopralluogo a Civitanova per valutare il prestito di un modulo di terapia intensiva, ma la Regione starebbe verificando l'ipotesi di realizzare una struttura con Bertolaso. Sabato si è svolto questo sopralluogo nel Covid hospital di Civitanova da parte di alcuni tecnici della Regione Umbria insieme ai medici e agli amministratori sanitari. Intanto per quanto riguarda i test rapidi, ne abbiamo parlato sabato mattina sempre qui nella segna stampa, abbiamo detto che c'è un ordinativo di 300.000 test antigenici, quelli veloci che in pochi minuti ti dicono se sei positivo o no, anche se poi magari, insomma, non sono proprio, come dire, efficaci al mille per mille, non sono come gli altri, ma comunque sono importanti. Ebbene, per questo c'è un appalto con una procedura dell'Asur di 2 milioni di euro. E adesso andiamo a vedere invece gli effetti, quelli collaterali, di questa pandemia, che sono anche quelli soprattutto economici. Via Branca, siamo a Pesaro, Carriera, chi è Carriera? Umberto Carriera è, ormai lo conosciamo, uno dei tanti ristoratori che però ha deciso di andare un po' per conto suo e di fare una battaglia in nome della libertà e quant'altro nella città di Pesaro. Chiaramente qualcuno lo sostiene, in molti gli danno contro e tra questi molti ci sono anche i colleghi ristoratori. Comunque, cosa ha fatto ieri Umberto Carriera? Sapete che a Pesaro c'è questa novità, questa ordinanza che fa discutere, che sta facendo discutere del senso unico pedonale, cioè in centro, si può andare solo a piedi, solo in una direzione. Per chi va dall'altra parte ci sono i poliziotti, polizia locale che blocca e fa fare il giro dell'oca. Quindi capite che anche ieri noi abbiamo trasmesso in diretta questa cosa su Facebook seguendo Carriera per far vedere un po' anche quest'azione di protesta, tra l'altro seguitissima su Facebook, commentatissima, che piaccia o no questa è la realtà e allora che cosa succede? Succede che ieri Carriera ha detto io sfido e vado contro mano, cioè al posto di andare nella direzione obbligatoria, obbligata dall'ordinanza lui è andato contro mano e che cosa è successo? I poliziotti lo hanno tra virgolette rincorso, lui è andato contro mano per andare in un negozio a fare degli acquisti, i poliziotti sono entrati nel negozio insieme a lui e lo hanno multato, la multa gli arriverà eccetera eccetera. Ora, questo è quello che è successo ieri, lui dice volevo solo fare acquisti a mio figlio ma la polizia mi ha seguito persino il negozio. Le opinioni dei commercianti, siamo a terra da tre settimane, il cambio di marcia dei pedoni non incide però su di noi. Chiaramente chi ha seguito la diretta su Facebook ieri ma c'è ancora qui sulla nostra pagina Occhio alla Notizia potete vederla e molti erano contrariati dal fatto appunto che arrivati a un certo punto dovevano fare un'altra strada per raggiungere magari un negozio fare un giro molto più lungo e capite che già siamo un po' tutti con i nervi a fior di pelle. Poi anche queste ordinanze un po' così fantasiose e alla fine scatta l'insulto scatta un po' tutto. Intanto debutta il mercato con i sensi unici tra le bancarelle ci sono solo i pesaresi nelle zone arancione vietati gli spostamenti tra i comuni persi tantissimi clienti e poi al mare mosso striscioni anti chiusura anche qui vedete la protesta non si è più visto un cartello con scritto andrà tutto bene ma ci sono tanti vaffa in giro dappertutto da ogni parte e questo sarà un problema che avremo anche nelle prossime settimane sarà interessante vedere a questo punto lo spirito natalizio come sarà quest'anno ma vabbè a proposito di spirito oggi è una giornata una rassegna spirituale allora ristoratore e baristi in corteo eccola qua la fotografia di un'altra iniziativa così nata spontaneamente dicono loro probabilmente sì e quindi si sono ritrovati in centro tra l'altro i ristoratori le ascolteremo in diretta tra poco intorno alle nove nove e un quarto in collegamento con Simona Zonghetti che seguirà cercherà di capire un po' anche queste loro istanze ieri però hanno appunto protestato vedete anche questa un'altra senza preavviso questo è il titolo se vogliamo di questa manifestazione di questa improvvisata un centinaio di manifestanti a testimoniare quella che è la frustrazione di tutto il settore tra l'altro qualcuno diceva potevate almeno aspettare lunedì a farci chiudere abbiamo fatto la spesa nei nostri ristoranti abbiamo comprato tutto il necessario per affrontare il fine settimana voi ci chiudete il ristorante la domenica quindi abbiamo dovuto regalare o buttare tanta roba tanta roba che chiaramente tenendo il ristorante chiuso la domenica non si è potuta cucinare quindi anche qui vedete insomma come spesso vengono fatte le cose un po' un po' così un po' così allora la crisi uccide più del virus questo è il titolo invece del resto del Carlino anche qua le immagini le fotografie di questi ristoratori questi manifestanti ieri nella rotatoria qui siamo vedete con lo sfondo dell'arco d'Augusto protesta fanno parte degli aderenti di Ristoria Italia bloccata la rotatoria di fronte all'arco d'Augusto mentre di spalla Sgarbi che non le manda dire al partito democratico di Urbino che in questi giorni lo sta attaccando anche sulla stampa per le cose dette e per l'appoggio evidentemente a carriera per tutto ciò che sta per come sta gestendo questa cosa ma cosa ha detto Sgarbi a quelli del PD di Urbino voi siete morti e io mangio dove mi pare un po' nel suo stile come spesso chi segue Sgarbi sui social è abituato a sentire intanto a Pesaro addio all'agronomo Ettore Franca aveva 78 anni morto in ospedale a causa del Covid anima dell'Accademia Agraria ha pubblicato molti libri e Luigi Dio Tallevi nel fare un ricordo nel descrivere ciò che è stato il professore Ettore Franca ricorda anche che non è stata ancora fissata la data del funerale e che Ettore lascia la moglie la storica dell'arte grazie a Maria Calegari e il figlio Giacomo tra l'altro fu anche insegnante e fondò anche l'Olea il laboratorio assaggiatori e poi andiamo sull'altra pagina del del Carlino sulla pagina 2 si parla dei buoni per i pesaresi dei buoni per un totale di un milione di euro e Ricci li consegna a casa Ricci lo vedete in questa immagine mentre consegna appunto questi questi buoni sono 6.000 dalle famiglie che lo riceveranno ognuno è da 100 euro e dovrà essere speso nei negozi della città e molti si si dicono increduli l'incredulità di di molti nel vedere appunto il sindaco che arriva lì arriva lì con munito non solo di penna ma anche di telecamere quella della RAI giusto per l'occasione insomma ecco quindi questo è andiamo avanti c'è un'altra scusate così tolgo il sorriso leggo prima questa notizia poi torno sull'altra l'esippo si impegnano i fanisi nel mondo grande mostra per chiederne il ritorno è il progetto per il 2021 annunciato dal sindaco così la città si pone all'attenzione internazionale un momento di stasi per le manifestazioni culturali il teatro della fortuna è chiuso incontri conferenze si diffondono solo su internet l'attività cinematografica è sospesa dimostra e non se ne parla i musei le raccolte d'arte sono inaccessibili questo però non significa che non si approfitti di questo momento di pausa forzata per evitare assembramenti con il proposito di ostacolare il diffondersi della pandemia per organizzare qualcosa di molto importante in cui l'allarme quando l'allarme sarà cessato e Massimo Seri parla di questa iniziativa di questa iniziativa poi Fano rischia di perdere altri cantieri il CNA il responsabile Valdarelli invita Comune e Regione a favorire investimenti e l'altra notizia eccola qua addio a Edo Ziccarelli il velista amico di tutti si è spento 75 anni a causa di un male titolare del Nautic Store tante le imprese a bordo del suo Moonshine il funerale mercoledì alla Chiesa del Porto e i suoi ragazzi verranno in divisa mentre l'altra pagina andiamo velocemente sulla pagina del Corriere la Fanurbino luogo del Cuore Fai mentre si rilancia la sua riapertura il quinto posto marchigiano nel concorso dei siti da recuperare e proteggere attivando fondi e bandi mentre presidio al mercato dopo la stradomenica tocca al San Vicenzio Polizia Locale e Protezione Civile in forze a garantire i percorsi obbligati Carriera invece passeggia in centro contro mano per protesta e sarà multato un esercito di volontari per i voucher grande operazione sociale in campo nei quartieri proseguirà anche oggi la distribuzione di famiglie dei bonus spesa e bambini Urbino ha promosso con tenacia la città fa male al cuore vederla deserta Lorenzo Tempesta presidente di Urbino International Center preoccupato per le misure anti-covid biodigestore a Talacchio scellerato il territorio ricettacolo di tutti i rifiuti l'ex sindaco di Tavuglia evidenzia la prossimità a Padiglione e case bruciate e al nuovo TMB presso la discarica da oggi chiuso il ponte di Bellisio la zona arancione limita i disagi e poi sto andando a trovare mia moglie falso multato lui e i suoi due amici a Senigallia la polizia lo trova in giro sabato dopo le 22 sempre da Senigallia ponte 2 giugno la storia demolita da ieri la città è senza la sua opera maestra realizzata a metà degli anni 50 il futuro è ancora incerto lo sport Alma da un focolaio all'altro il covid è stata rinviata la partita con il legnago ora si punta all'Arezzo che però ha 18 giocatori positivi oltre al tecnico la vis non deve mollare il presidente Bosco interviene dopo il terzo KO consecutivo e poi l'ipotesi WL ritorna in campo il 6 di dicembre infine la ginnastica la federazione resta in mano a tecchi il fanese è confermato la presidenza nazionale è tutto ci vediamo tra pochissimo restate con noi a tecchi a tecchi a tecchi a tecchi grazie a tecchi